Buonasera a tutti, l'amico Marco Becchio Rosenheim chiede di definire il concetto di Muscle Car perché giustamente fa notare che sul termine c'è una grande confusione e che questo viene utilizzato spesso, anzi la maggior parte delle volte a sproposito. Marco hai ragione, è un concetto da chiarire, lo feci tempo fa sul mio profilo Facebook ma chiaramente non in video ma scrivendolo. Ora cominciamo dalla pronuncia, gli americani pronunciano questa parola Muscle, io ho sempre pronunciato Muscle, so che è sbagliato, tutti in Europa pronunciamo Muscle per cui io uso Muscle, sappiate che dovrebbe essere Muscle. Muscle Car è un fenomeno ben circoscritto di una cosa che accade in America e solo in America tra il 1964 e il 1973. Ora vi spiego il perché di queste due importanti date. Allora nel 1964 mentre Lee Iacocca, uomo Ford, era impegnato come lo avevamo lasciato nell'altro video, nel lancio della Mustang e nella improbabile acquisizione della Ferrari che poi sfocerà nel progetto GT40 con tutta la relativa storia, Le Mans, Carroll Shelby eccetera, John DeLorean diventa un uomo Pontiac, un dirigente Pontiac. La Pontiac in quel periodo è un'azienda in forte difficoltà, dopo i fasti del passato la Pontiac sta attraversando una crisi di immagine, le Pontiac non vendono e bisogna inventarsi qualcosa, qualcosa di forte per cambiare l'immagine del marchio e ritornare sulla cresta dell'onda. Anche perché comunque ragazzi negli anni 60 il business delle automobili è enorme, le automobili si vendono come i cioccolatini negli anni 60, bisogna cavalcare l'onda e fregare la fetta più grossa possibile alla concorrenza, è una competizione incredibile. Cosa si inventa John DeLorean? John DeLorean ha una ricetta che è complementare a quella di Lee Iacocca, vuole lanciare una sportiva, però si inventa una formula che deve essere anche un po' economica perché non ci sono grandi budget da investire. Allora Iacocca cosa fa? Prende il motore della Pontiac Catalina che è un piroscafo esagerato, diciamo una di quelle automobili che gli americani chiamano full size e che probabilmente supera i 6 metri di lunghezza, adesso non lo so di preciso ma ragazzi immaginatevi una vettura enorme, solo il bagagliaio è lungo quasi 2 metri e lo mette nel cofano di una media che è la Pontiac Tempest. Bella vettura, più piccola ma sempre enorme per i canoni europei perché comunque parliamo di una vettura oltre i 5 metri, abbondantemente oltre, però con il motore enorme della Catalina che era un 6.4 litri quindi un 389 pollici cubi per la precisione, 350 cavalli, la macchina viene rivitalizzata in maniera incredibile, tant'è vero che le prestazioni diventano imbattibili perché parliamo di uno 0 a 100 contenuto sotto i 6 secondi e mezzo intorno a quel tempo lì, 0 a 400 metri che è sempre molto interessante per gli americani intorno ai 14 secondi, una velocità di punta che però non interessa a nessuno in america di circa 210 km orari. Nel 1964 questo è assolutamente una prestazione da astronave. Perché questa automobile va ad innestarsi in maniera così convincente nell'immaginario collettivo perché va a sostituire così da concessionario delle prestazioni che i ragazzi diventavano matti per ottenere costruendo degli otrod insicuri, magari brutti a vedersi, magari ancora più costosi, percorrere e gareggiare in strada oppure nelle gare d'accelerazioni serali e di weekend che erano di moda in questo periodo. La GTO arriva a bomba perché si innesta sotto tutto questo sostrato di desiderio di automobile sportiva che prima non esisteva e va a colmarlo, va a colmare queste lacune. Per cui quello della GTO è un successo immediato, alla GTO si dedicano addirittura alle canzoni. La GTO ha come immagine forse più famosa della sua campagna pubblicitaria la foto di un garage vuoto con la scritta sotto mi pare la tigre è libera per le strade. Perché la GTO era talmente famosa che non c'era più bisogno nemmeno di farla vedere nella pubblicità, la gente la conosceva. Per cui si è trovata questa simpatica formula di non far vedere nemmeno la macchina, quasi arrogante, quasi consapevole del proprio successo incontrovertibile. Effettivamente la scelta quindi di John DeLorean, che è lo stesso John DeLorean tra l'altro della DeLorean di Ritorno al Futuro, ma questa è un'altra storia che racconteremo un'altra volta, John DeLorean cambia il destino della Pontiac con una macchina che è stata facile da produrre e ha subito riscosso il successo. La concorrenza è costretta, come succede in questi casi, a rincorrere e a rincorrere in fretta. Tutte le tre grandi nel giro di un paio d'anni si attrezzano per avere in catalogo delle vetture simili, per cui delle vetture che accoppiano una scocca media a un motore enorme, al motore più grande della gamma. E questo è il concetto di Muscle Car. Muscle Car è una macchina media con dentro il cofano il motore di una grande, dal 64 al 73. Le Pony Car, per cui la Camaro, la Mustang, la Firebird, non sono Muscle Car. La Corvette non è una Muscle Car. La gente tende a definire Muscle Car qualsiasi macchina americana sia potente, ma non è così, perché Muscle Car è proprio invece questo concetto. La Nova non è una Muscle Car, la Camaro non è una Muscle Car, sono tutte scocche più piccole. Sono scocche piccole, non medie. La Muscle Car è una scocca media col motore di una grossa, non una piccola col motore di una grossa. Le Mustang col motore Big Block non sono delle Muscle Car, sono sempre delle Pony Car con un grosso motore. Per cui non è facile definire cosa sia Muscle e cosa no, perché la gente ha sempre dei dubbi. Però prendete questo paradigma, portatelo con voi e vedrete che sarà più facile. Esiste solo un caso dubbio in tutta la storia dell'automobile americana, che è quello di due automobili che sono arrivate del gruppo Chrysler, ma sul tardi, e sono la Cuda e sono la Challenger. Queste macchine hanno la stessa scocca, con pannellature diverse, come spesso succede ancora oggi nell'industria automobilistica, si progetta un telaio solo e poi dopo ci si va sopra con dei pannelli differenti per risparmiare e per creare due automobili che sembrano diverse, anche se in realtà sono la stessa. Ebbene, la Cuda e la Challenger sono Muscle Car un po' più corte, perché? Perché semplicemente i tempi stavano cambiando, ma la scocca non è quella di una Pony, l'impostazione è quella di una Muscle Car, non di una Pony Car. Non sono vetture più piccole, sono semplicemente un po' più corte. Per cui per queste due vetture io farei una piccola eccezione. Per le altre no, per le altre non ho pietà. Nel senso che le Muscle Car, come vi dicevo, sono una cosa ben definita e nemmeno si può dire Muscle Car all'italiana, Muscle Car alla tedesca, come spesso si sente dire. A me queste espressioni fanno francamente ridere. Non rispecchiano quel gigante fenomeno che nacque nel 1964 con la GTO, che tra l'altro si chiamò GTO per sostanzialmente per prendere un po' in giro la Ferrari, nel senso che quasi avevano le stesse prestazioni, la Ferrari GTO e la Pontiac GTO. Chiaramente girare su un circuito sarebbe stato di ben altra difficoltà, però le prestazioni pure in realtà erano molto simili, o forse a tratti la Pontiac era anche più veloce, probabilmente. Però il concetto è proprio questo. Dopo la GTO le case automobilistiche americane si trovano a rincorrere, sia la Ford che la Chrysler devono mettersi nella scia commerciale e di successo della GTO. Secondo me le Muscle Car più belle sono quelle prodotte dal gruppo Chrysler, le Mopar, per cui una su tutte la Charger e le sue derivate, per cui Superbee, Coronet, GTX, tutte quelle macchine che hanno lo stesso telaio ma che hanno una pannellatura diversa, ma si capisce benissimo, perché la macchina ha una forma definita e si vede benissimo. Oppure, come vi dicevo prima, la Cuda e la Challenger, che poi hanno anche verso la fine produzione i motori 426 Emi, che insomma è un po' insieme al 454 Chevrolet il punto di arrivo del fenomeno Muscle Car a livello motoristico. Dopo il 1973 questo fenomeno Muscle Car si interrompe bruscamente. Già aveva subito dei punti di domanda per le severe leggi anti-pollution che specialmente in California stavano entrando a cambiare un po' il mondo dell'automobile, ma con il 1973, con la guerra del Kipur e la conseguente crisi petrolifera. La guerra del Kipur avvenne in Medio Oriente, si chiama così perché fu iniziata in contemporanea una festività ebraica che porta questo nome. Non mi interessa francamente, penso non interessa neanche a voi declinarne le caratteristiche e gli schieramenti, però il risultato fu che il prezzo della benzina schizzò alle stelle e nessuno aveva più voglia di mettersi in casa delle vetture che consumavano veramente quanto una petroliera, benché le prestazioni fossero superlative. Nessun automobile, a ben vedere le cose, fu più la stessa dopo il 1973. Il 1973 rappresenta proprio un momento di riflessione nella storia dell'automobile. La prima crisi petrolifera molto seria che costringe addirittura in Italia all'austerica alle domeniche a piedi, costringe tutto il mondo dell'automobile a delle riflessioni veloci e incontrovertibili che lasceranno sul campo gran parte delle gioie motoristiche e delle macchine sportive dell'epoca. Purtroppo il 1973 ci ha cambiati. Delle muscle car rimane comunque sia una storia enorme perché ancora oggi nell'immaginario collettivo americano basta vedere uno su tutti i film di Fast and Furious, ma tutto il cinema americano riserva sempre un grande posto quando c'è bisogno di dare una macchina a un personaggio particolare, a un duro e ragazzi gli si dà sempre una muscle car alla fine. È veramente difficile che ci sia un film a tema automobilistico senza che salti fuori la muscle car della situazione. Il termine è definito in questo modo. Automobile americana di caratura media con motore da automobile grossa, quindi un big block di full size, dal 1964 al 1973. Questa è la definizione di muscle car. Altre muscle car non ce ne sono. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio di avermi seguito e iscrivetevi al canale se vi piacciono i video. Ciao, commenti qui sotto, mi raccomando.